Quella che state vedendo non è una frittata di cipolla, ma è la luna come non è mai stata vista prima. Ogni dettaglio della sua struttura interna e della sua composizione viene rivelato per la prima volta dalla mappa della gravità lunare ottenuta dalle sonde gemelle Grail della nasa pubblicata sulla rivista science la mappa una risoluzione così alta da essere la più precisa mai elaborata per un corpo celeste. I dati raccolti dalle due sonde rivelano inoltre che la densità della crosta degli altipiani lunari è inferiore rispetto a quanto stimato finora. Questo sembra confermare che la composizione della luna sia simile a quella della terra e che il satellite si sia originato proprio dal materiale terrestre schizzato via durante un gigantesco impatto nel sistema solare ancora bambino. La rilevazione delle anomalie lineari del campo gravitazionale lunghe anche centinaia di chilometri sembrano indicare invece la presenza di fossati o lunghi e sottili corpi verticali di magma solidificato nel sottosuolo. I fossati in particolare sono tra le formazioni più antiche della luna e potranno fare luce anche sulla sua storia più remota. I primi risultati della missione Grail appaiono fortemente importanti e in linea con le aspettative creatisi intorno alla missione stessa. Bisognerà attendere ancora un po' per avere ulteriori dati e per cominciare a capire meglio come è strutturata intimamente la luna e quali sono i rapporti che la lega al nostro pianeta. Grazie, alla prossima.